musica io non sono mai andata qua così così adesso lo faccio devo trovare del cibo ma inizio era una casa che sbavento adesso una batteria ma ok chi prego non mi ricordi eeeh dove smettere quanto voglio non mi ricordi la casa non ce la fa dai che ce la fai ok va bene 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 Ahahahahahahah Ahahahah Posso fare già l'impianto elettro? Sulla macchina c'è ancora? Non c'è ancora Ved i tutti Sì da Ok Ok Dai ti prego Ti prego Spingo madonna Piuttosto che spingo Piuttosto che spingo Piuttosto che spingo Piuttosto che spingo Dai Ok No c'è un orso C'è un orso Eh si è arrivato in Jamaica Tipico per un orso Guarda tu è arrivato Hai detto Guardi devo dire una cosa Cosa importante Potenziale e vitale Ancora vive Com'è possibile Ah l'è 30 anni Si 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 Aspetta un caso Mi dispono Via Via Buona Sono Andato a riciclarsi troppo Se E torno Hello Ciao Vedi che sto registrando Eh Ok Non dico Non dico panzanate Come se le dicessi Solitamente Devo larga casa Oggi mi serve Oggi casa E Sistema industriale Addirittura Che tu l'hai già fatto No 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 Non è vero No La fatta è ancora Allora Non sono così avanti Vediamo se stasera ci fa visitare La La cargo Ma Ah c'è già la cargo C'è già È uscito da poco Da poco Non ho carburante però Ti porto io Mi viene anche te a farla cargo Poi mi fanno tutte e due Perché Allora è andata bene Ha fatta la storia Ligotta Non peraltro Passo Però ti porto il carburante Eh È Atterrato Sei arrivato sulla Sulla nave già Eh sì Poi ho già aperto L'ho sbloccato la prima Aspetta Poi ho Un luogo sicuro E ti porto Ok Sto per rompere l'arma Sì Notato Dovrebbe regge Credo Non penso Terza cassa Non ho ancora trovato Scusate Ma dove Perdinci Bacconina Mannaggetta Non è che sta sotto No Porca miseria L'ultimo colpo Culo C'è Non hai altre armi O qualsiasi altra cosa Che possa assomigliare un'arma Incredibile Che culo Poi sono io quella fortunata Qua Dove ne dobbiamo parlare No cavolo L'altra cassa è dentro la cabina No davvero Secondo me Sì No ma non può essere sotto Dai C'è una dietro Una lì L'altra sarà sotto Qua dai Un'altra Dai vabbè Ma per favore Per favore C'è dai Dai Ho io un fucile a cecchino No uno in più Mille in più Quindi quindi Stiamo parlando di fortuna Quindi Quindi Tutta skill C'è qualcuno Che mi sta entrando Dentro casa Ehi 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 Che è Cos'è Aspetta che non vedo Senza No ma questo Ce l'ho già L'avevo sbloccato Eccolo no Cosa Vado C'è bene che è bene Dando la cucina Grazie Si sono spaventati i gioccellini Perché ho preso l'albero Pensate Che dettaglio Sì Non l'avevo mai notata Sta cosa Che succede Non Altra in giallo Becami Eccendo Certo mmm è un momento delicato non posso mettere il fro ma si sento allora si certo che si sento un sacco madonna si è cagato sotto bene quanto sono simpatica troppo troppo perché non stai dicendo niente ho detto forse con gli spari non sta sentendo chissà dove cavolo è messo sto gaspita di telefono lì e invece e invece ho sentito il rumore poi ho visto in pezzi volare aspetta che mi perdo il drop c'è dei barili di acqua no però c'ho questo non hai la tanica lì fuori ma guarda le stradine ci sono no ma dai me l'ha messa adesso ma serio è la prima cosa che devi mettere qua la prima qua chi ci metti scusa lì è il magazzino ok ma qua che cosa ci metti qui? qua 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 questo che hai fatto a due piani ah niente non lo so poi vedrò inventrò qualcosa una stanza gigante per niente ma mi piace non lo so semplicemente nulla no mannaggia ah scusa così qua lascia aperto ma soprattutto perché ho difficoltà a salire? perché c'è questo coquitino scusa non la sollevi questa lascia aperta così cole questa dove c'è la scala c'è aperta così sì sì tutto è che poi se ti entra e ti entra acqua dentro casa poi come fai? scusa mi hanno capito come fai entrare dentro casa? entra piove entra l'acqua poi si arrega tutto fuori via vedi? vedi? poi fai tipo acquario via vada via che mi spaventa i vicini guarda tutti questi vicini guarda è pieno così proprio quindi ti manca l'impianto elettrico? no perché il mulino a vento ce l'hai il mulino a vento ce l'ho devo farlo l'ho studiato dai così avrai tutte le stanze illuminate ma guarda che figata sta cosa cioè sono già contenta adesso quindi per dopo quella poi adesso la corrente elettrica vada tu hai tutto illuminato ma che bello che bello bello che è successo? che hai fatto? ma non lo so cioè un attimo mi sono allontanata ma un attimo proprio certo ma come ho sentito uno sparo cioè ed era da qui quindi non è che era da fuori secondo me da fuori non penso c'è neanche un orso fuori quindi è possibile come nel pvp che uno fa la risorsa l'altro fa la guardia io faccio luce perché guardia cioè guardia apri un certo punto cioè finché vedo dove non vedo non posso far guardia